oh ciuccio la porca magliana aia ma che è fammi fa il tirato vai aia oh no chi sei jackie shan oh chi sei all'anno hai capito chi sei tu chi sei chi sei chi sei chi sei chi sei buongiorno eh ma tu vuoi già fare il massaggio anche entro la spalla perché perché ti c'è da una zampata per bene mannaggia il bamboccio no 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 stavo oh anche oggi stiamo leggeri eh guarda che pagliaio di pasta con la carne il parmigiano di tutto e di più ma che dieta è questa oh o no che dieta è quella che mi fa i cazze mie e poi e poi e tu fai i tuoi e tu magni come un coso